Buonasera e buon Natale dalla redazione sportiva di San Marino RTV, un buon Natale al nostro ospite, al segretario di Stato allo Sport, Teodoro Lonfernini. Buon Natale, segretario. Buon Natale a lei e buon Natale a tutti i telespettatori. Siamo praticamente a fine anno, a fine di questo 2021 che è stato caratterizzato da una pandemia che purtroppo ancora non vuole lasciarci, che caratterizza la vita quotidiana di ognuno di noi. Oggi è stato dal punto di vista sportivo un 2021 segretario che faremo fatica a dimenticare perché le medaglie a Tokyo da parte degli atleti di San Marino, la vittoria del San Marino Baseball che è tornato ad essere campione d'Italia, insomma è stato un anno dal punto di vista sportivo meraviglioso. Senza ombra di dubbio lo è stato, possiamo tranquillamente dire che lo sport del nostro paese ha espresso sicuramente il meglio del nostro paese, culminando chiaramente il tutto con una partecipazione olimpica e con dei risultati olimpici che chiaramente abbiamo definito storici, unici, ineguagliabili. Quindi cosa chiedere di più allo sport del nostro paese e alla passione degli sportivi del nostro paese in un anno come questo? Credo nulla di più. Nel caso deve essere sicuramente di grande insegnamento di cosa vuole dire per un paese come il nostro le politiche sportive e investire sulle politiche sportive. Segretario stiamo vedendo le immagini delle olimpiade di un'estate che ci ha veramente resi felici, resi orgogliosi di questi tre atleti che hanno conquistato le medaglie, ma direi orgogliosi di tutta la delegazione di San Marino che ha partecipato alle olimpiadi, Alessandra Perilli, Gianmarco Berti, Miles Amin, Mularoni, ma anche insomma Persoglia, Lavalloni, cinque atleti e tutta la delegazione che ha veramente fatto qualcosa di straordinario. Ci si emoziona ogni volta che si rivedono queste immagini? Ma senza ombra di dubbio mi emoziono io che l'ho vissuta a distanza, ma insomma credo di essere davvero il segretario allo sport più fortunato e forse anche più invidiato di tutta la storia del nostro paese, perché ho potuto godere dei risultati dei nostri atleti, è emozionante vedere anche in questo momento la nostra delegazione, i nostri medagliati, la nostra bandiera sui gradini più alti del mondo, insomma credo davvero che quelle immagini rimarranno nella nostra memoria per lungo un lunghissimo tempo. Esatto, abbiamo visto per un attimo la bandiera di San Marino in mezzo a quella della Spagna che ha vinto la medaglia d'oro nel Mixed Team per un solo piattello e lo vogliamo ricordare, e la bandiera degli Stati Uniti, fa un certo effetto vedere la bandiera di San Marino lì sui pennoni delle Olimpiadi. Beh ma da un punto di vista sportivo diciamo che quasi quell'effetto un po' ci ha abituato a vederlo, perché questo è a detta di tutti, siamo nelle classifiche più alte in assoluto, siamo il paese che per numero di abitanti ha il numero di medaglie più consistente, abbiamo raggiunto anche in altre discipline sportive, non soltanto quelle di natura olimpica, sebbene siano al massimo tantissimi altri risultati, insomma io credo che il nostro paese, lo dicevo prima, davvero nel mondo dello sport, sulle politiche sportive, riesce ad esprimere il meglio di sé. Esatto, un paese con una grande vocazione sportiva, perché un comitato olimpico, tante oltre 30 federazioni, con tanti giovani che praticano sport in Repubblica, credo che in un momento come questo, con una pandemia che non molla la presa di un centimetro, sia particolarmente significativo, molto importante, che soprattutto i più giovani continuino a fare sport e poi magari sognare queste grandi imprese. Ma guardi, l'ho detto non più tardi di qualche giorno fa, l'ultimo Consiglio nazionale a cui sono stato invitato, ho avuto piacere perché è stato un momento per ritrovarsi alla fine di una lunga stagione, di grandi risultati, e quindi di fronte a tutti i presidenti delle nostre federazioni, li ho ringraziati immensamente per quello che l'attività federativa, le associazioni ad essere affiliate, i grandi e i tantissimi appassionati, dai più giovani ai più anziani, riescono a dover muovere per il mondo dello sport del nostro paese. Abbiamo un numero come qualcosa di più di 9 mila iscritti tra federazioni e società affiliate, in una comunità di circa 36 mila anime, credo che questo rappresenti e debba rappresentare davvero tanto. Sicuramente rappresenta molto, sia per quanto riguarda le medaglie olimpiche che abbiamo celebrato, continueremo a farlo anche nel prossimo anno, nel 2022, perché poi l'anno nuovo si aprirà con i giochi invernali a Pechino e San Marino ci sarà, sarà presente con i propri atleti, anche questo è un altro risultato molto significativo. Abbiamo parlato, ed è giusto parlare, delle medaglie olimpiche, dobbiamo parlare però anche di una squadra, quella del San Marino Baseball, che è tornata ad essere campione d'Italia per la quinta volta nella sua storia, una squadra che ha vinto 5 campionati, ha vinto 3 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Italia. A proposito di Coppe dei Campioni, il prossimo anno San Marino sarà proprio lì sul palcoscenico europeo. Anche quello è un risultato, credo che meriti una citazione, segretario, abbiamo visto la serata della finale del titolo, proprio con la Periglia e Berti, il primo lancio simbolico. Questa è la festa del baseball. Merita più di una citazione, merita davvero tutti i nostri elogi, gli elogi di tutti i sanmarinesi che si stringono attorno a quegli sport in cui riescono davvero ad essere i grandi protagonisti del mondo, d'Europa e in Italia. Il baseball rappresenta tutto questo da tanto tempo, sono pluridecorati, credo che abbiano veramente vinto tutto, da campionati italiani, campionati europei, insomma sono stati in grado davvero di portare a casa le coppe più belle. Quest'anno un altro grande risultato, a loro va il mio ringraziamento, a tutti i componenti della squadra, ai dirigenti, a chi continuamente investe in quelle realtà, in questo caso in particolar modo l'amico Alberto Antolini, patron della squadra da sempre, segno del fatto che se ci sono delle eccellenze attorno ad esse si stringono le eccellenze e quindi dobbiamo continuare a lavorare in quel modo, in una bellissima sinergia tra il pubblico e il privato, tra il pubblico che deve continuare ad investire e sostenere e il privato che chiaramente ha la lungimiranza di capire dove potersi spingere. Segretario, lei ha parlato di dirigenti, dirigenti sportive, perché non solo i risultati, abbiamo visto le medaglie olimpiche, la vittoria del baseball, ma anche a livello organizzativo San Marino si distingue. Mi viene in mente il Rally Legend, Paolo Valli, questa organizzazione di un evento automobilistico di livello mondiale che viene ogni anno organizzato all'interno del territorio della Repubblica di San Marino. Ma ha citato sicuramente, come io prima ho fatto il patron del baseball, un altro elemento del nostro paese, un altro concittadino del nostro paese fondamentale per la realizzazione di una grande impresa come in questo caso Rally Legend. Paolo Valli e tutto il comitato organizzatore sono quei sanmarinesi che hanno creduto davvero nel territorio e nel territorio hanno investito, sul territorio continuano ad investire, attraverso il territorio hanno generato da un'idea pazza una circostanza che ormai è diventata di sistema, ha una dimensione di sistema quasi fondamentale, quasi irrinunciabile. Ci apprestiamo a festeggiare nel 2022 i 20 anni del Rally Legend. Credo che anche a queste persone, a questi spiriti d'iniziativa, lo dicevo proprio pochi giorni fa al Consiglio Nazionale, dobbiamo fare un grande applauso e lanciare a loro un grande premio, un grande merito in funzione della perseveranza con la quale hanno portato avanti quelle idee che magari all'inizio sembravano difficilissime ma oggi sono diventate irrinunciabili. E certo, insomma un altro grande evento marchiato, Repubblica di San Marino. Abbiamo finito.